Va o resta? L'interrogativo che popola le notti dei tifosi della Fiorentina, lo risolto il presidente commisso Chiesa, indosserà ancora la maglia Viola. Sarà in campo contro la Samp. Già, contro la Samp. Peccato che poi da sabato a lunedì potrà nuovamente succedere di tutto. Non parlo di queste cose, si è affrettato a precisare il presidente Viola quando gli hanno chiesto se la Rosa resterà così com'è. Anche perché sul piatto restano tante altre potenziali trattative. Pioli insiste ad esempio nel chiedere Pezzella e Milenkovic, ma su quello la Fiorentina pare non transigere, difficilmente si muoveranno. L'ex tecnico Gigliato ha fatto anche un sondaggio per il figlio d'arte, però Chiesa ha in testa solo la Juve. Lo ha ribadito anche a chi in queste ore ha cercato di instigliargli un'altra volta il dubbio sul rinnovo del contratto con i Viola. Non lo farà e se gli incasti del mercato non si concretizzeranno, la Juve deve comunque cedere almeno uno tra Douglas Costa e Chedira. Federico resterà a Firenze. Scordatevi però i sorrisi dell'ultimo periodo perché la sua volontà è chiara. Le tre trasce, con totale attorno ai 55 milioni pensate da paratici, ingolossiscono poco commisso, ma il Presidente ha anche capito che trattenere il giocatore a ogni costo rischia di diventare controproducente. Allora ha chiesto ai suoi uomini in mercato solo di far presto perché il tempo per trovare un sostituto, non necessariamente un esterno, volendo anche un centravanti o un difensore, stringe il 5 ottobre alle porte e se venerdì sera sarà davvero il commiato di chiesa, dal giorno dopo è obbligatorio voltare pagina senza troppi rimpianti.